Mi chiamo Maria Bresiani, oggi è la giornata mondiale dell'assendimento in Down. E tu sei a lavoro? Eh sì, sono a lavoro. Hai iniziato presto? Ho iniziato nel tirocinio, qua in negozio, dal 9 novembre dell'anno scorso. E quanto devi fare ancora? Adesso, prima di giugno, ho firmato il contratto e mi ha assunto. Ricordiamo che Maria è una campionessa di nuoto, perché ha vinto tanti titoli. Eh sì, anche nel nuoto, ho fatto anche il maratola di New York. Quante cose! Ci ricordi la tua vittoria più bella? Ce n'è una più bella del nuoto? C'è una stafetta a Firenze, che ho fatto Porta Mandiera, nel 4 per Chianto Stile, ho fatto come la stafetta di crepacuare a tifosi. Adesso abiti anche da sola, è vero? Eh sì, abito poi da sola, poi mi sorella. E com'è la tua vita adesso? Adesso non mi ritrova bene? Avevi già fatto anche un altro lavoro prima o no? Eh sì, prima lavoravo in una pizzeria. Poi, dopo il lavoro, insieme a Maria siamo andati nel suo appartamento. Dopo il lavoro siamo arrivati finalmente a casa? Eh sì, siamo arrivati a casa. Sei stanca? Sono arrivata col fiato. Adesso c'è da preparare qualcosa da mangiare? Eh sì, c'è da preparare il pranzo. Ora la sua priorità è il lavoro, ma con i suoi 27 anni sono ancora tanti i sogni e gli obiettivi da raggiungere. Adesso quali sono i tuoi sogni, i tuoi obiettivi? I miei sogni? A me è fare spettacoli teatrali, essere una star, girare il mondo come turista o girare il mondo tramite i miei sogni. Che cosa possiamo dire oggi a chi ci ascolta, che è una giornata importante? Cosa vuoi dire? Noi siamo uguali, ma siamo anche diversi come diversità, ma siamo anche uguali dagli altri.